Centro spirituale Frattocchie. Nuove ipotesi del crescere. In cammino verso la luce. Ottobre 1991. Guida. Le entità spirituali e specialmente lo spirito guida o angelo custode, assegnato ad ogni incarnato, stanno o restano in continuo contatto con la camera oscura del cervello, inviando suggerimenti per un sentire più vero e più puro nelle azioni da intraprendere per l'esercizio del libero arbitrio di cui l'uomo è dotato. Le entità spirituali non fanno violenza e non producono forzature nella mente degli uomini. Tutto l'aiuto viene dato, ma l'uomo non sa utilizzare suggerimenti sempre presenti alla sua coscienza individuale e quindi questi suggerimenti restano quasi sempre ignorati senza l'agire di conseguenza.